se ci sono benvengano io credo nella buona fede del Signore se ci sono questi vaccini ma lei sarebbe in grado di portarli anche dopo adesso io mi devo fermare lei sarebbe in grado però se è in grado non può passare attraverso le regioni ma deve andare a dar curi il mio lavoro è questo ti scusi in qualsiasi momento quando manca un prodotto a me viene chiesto il prodotto io ricerco quel prodotto come faccio? vado nel mondo e lo trova? qualche volta lo trovo ma lo deve portare a dar curi perché lo porta alle regioni? è questo che mi incuriosisce ma perché a me è arrivata la richiesta delle regioni io ripeto non conosco le dinamiche allora sono le regioni che ha chiesto a lei io sì sì ma perché secondo lei lo Stato italiano non l'avrebbe comprato Luca un attimo ma io non lo so ma io non vendo in Italia io vendo io tratto io faccio questa attività ma non lo faccio per l'Italia mi hanno cercato le regioni ho risposto io ce l'avevo se mi avesse chiamato a curi avrei risposto anche a curi lei ha tracce di tutto quello che sta dicendo ma è documentato ma se no sarà un passo ne parleremo magari la prossima settimana siamo ancora al titolo quinto Massimo ancora al titolo quinto le regioni anche con le migliori intenzioni non devono superare se c'è un'autorità statale centrale perché se prendiamo per vero ripeto quello che sta dicendo io prendo per vero quello che mi sta dicendo non ho la possibilità in questo momento di controllarlo lui dice sono stato chiamato io dalle regioni sarebbe gravissimo e quindi sarebbe un atto abbastanza particolare ma no ma non sono chiare che c'è a curi allora le faccio le faccio allora intorno alle regioni ci sono delle società che probabilmente delle figure facciamo così no delle figure che gravitano intorno alle regioni agli uffici e per cui sapendo che io faccio questo mestiere mi hanno contattato i faccendieri chiamiamoli siccome parleremo adesso di altri quattro personaggi in cerca d'autore come direbbe Pirandello che hanno portato però per un miliardo 250 milioni di euro 800 milioni di mascherine d'Italia lo sa hanno preso 70 milioni di euro lo so assolutamente scandaloso e vergognoso ma io non so se questi signori facevano questo mestiere prima io le dico se lei ha carta in mano la prossima settimana io l'ho trattata in modo educato e cortese e l'ho dato la possibilità di rispondere ci terrei ad andare a fondo perché siccome il problema dei vaccini non è che lo risolviamo domani non lo risolviamo dopo domani lo risolveremo purtroppo in molti mesi allora vorrei capire se uno come lei può portare un vaccino serio in Italia forse in questo momento andrebbe quantomeno ascoltato da chi deve decidere se è vero io posso portare le mie fonti se come dice Crespi lei un farabutto tra virgolette ne risponderà Crespi lo scopriremo lo scopriremo perché il tempo scopre tutto le carte nel tempo scoprono i farabutti e le persone serie ma se io fossi il farabutto che dice Crespi ma io questa sera verrei qua a parlare di questo con lei ma non sappiamo chi è lei ma c'è un motivo voi lo sapete benissimo chi sono c'è un motivo e ve l'ho già detto non è vero non dica questo c'è un motivo voi sapete tutti chi sono c'è un motivo chiaro mi faccia capire perché avrà delle puntate se lei ora parla con Sfiledi vi scambiate il numero di telefono lei domani offre i vaccini subito allo Stato italiano come le ripeto i vaccini non sono un chilo di banane io devo fare la ricerca attraverso i miei fornitori e devo vedere se la disponibilità c'è ancora dieci giorni fa c'è ma io le posso io le posso soltare due o tre indicazioni di aziende che possono avere la disponibilità del vaccino va bene questo non sta a me scoprirlo ma mi piacerebbe invece incontrarla di nuovo la prossima settimana perché probabilmente